BMW X5 parcheggiata nel cortile del re delle truffe auto, il 27enne Ivan Baricevic. La presenza del SUV di lusso ha subito messo in allarme gli agenti della polizia stradale di Treviso, che dopo una complessa indagine, grazie all'aiuto di un'officina specializzata, hanno scoperto che quell'auto da oltre 100.000 euro era stata rubata nel 2011 a Como, ma risultava pulita perché il nuovo numero di telaio a cui faceva riferimento era quello di un'altra X5 in fase di reimmatricolazione dopo essere stata venduta all'estero in Slovenia. Lui si è avvalso di un numero di telaio, più o meno di un rottame, di una macchina che era destinata all'esportazione in Slovenia, per applicarlo su un'auto che invece era oggetto di furto a Como alcuni anni fa e quindi ripulire completamente l'auto attraverso la rimatricolazione del veicolo e quindi l'emissione di nuovi documenti di circolazione assolutamente puliti. Baricevic è stato denunciato per riciclaggio e ora rischia un inasprimento della misura restrittiva a cui era sottoposto. Il soggetto in questione era tenutario di un provvedimento di sovvivenza speciale di pubblica sicurezza che indubbiamente ha violato commettendo questo reato di riciclaggio e quindi verrà rivalutata la sua posizione anche ai fini di un eventuale inasprimento della misura. A Castelfranco sempre la Polstrada ha trovato nel camper di una famiglia di Roma originari di Catania e la bicicletta rubata poco prima a un residente di Castello di Godego. Inutile oltre che maldestro il tentativo di addossare tutta la colpa a un bimbo di appena 6 anni. Padre e figlio di 39 e 16 anni sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.